Tappa Belluno venerdì per il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini, che ha incontrato i candidati bellunesi del Partito Democratico alle prossime elezioni regionali. Vari gli argomenti affrontati, fra questi l'emergenza sanitaria, l'autonomia, le infrastrutture, il demanio militare, per concentrarsi poi sulle novità inerenti la montagna e le aree interne del piano ripartenza e resilienza, in corso di definizione per l'utilizzo dei fondi messi a disposizione dall'Unione Europea a seguito della pandemia. Penso che l'Europa abbia giocato una partita decisiva sul proprio futuro e l'abbia giocata positivamente, perché il quadro delle risorse messe in campo è un quadro senza precedenti, fondamentale, importantissimo, rispetto al quale l'Italia deve essere pronta, capace, con progetti seri, dentro la pianificazione che deve essere realizzata, utilizzando tutti gli strumenti che sono messi a disposizione. Dentro questi strumenti c'è il recovery fund, che necessita di un piano che debba essere presentato a livello nazionale e confrontato con la Commissione Europea. Il governo ci sta lavorando con grande determinazione e con grande impegno. È un piano che ha diverse direzioni di lavoro strategiche. Tra le direzioni strategiche c'è anche sul principio della coesione territoriale l'attenzione alle aree interne e dentro le aree interne l'attenzione alla montagna, con risorse che verranno destinate alle aree montane, con risorse che in questa provincia, a Belluno, possono aggiungersi alle risorse che sono state già messe in campo grazie al lavoro che in questi anni è stato realizzato, soprattutto dal punto di vista delle infrastrutture. Quindi c'è l'occasione, io credo, per affrontare temi decisivi, con strumenti che sono a disposizione. I progetti devono essere realizzati tra livello nazionale e livelli territoriali. Ci dovrà essere il protagonismo da parte di entrambi, il governo impegnato per fare in modo che questi progetti siano efficaci, siano utili e siano soprattutto giudicati positivamente dalla popolazione che è il beneficiario dei progetti che realizziamo.